Un cuore rosso nel centro Italia, con un punto a indicare l'Aquila. Il claim è l'Aquila al centro. E questo è il nuovo simbolo lanciato dal senatore Gaetano Quagliariello per le prossime elezioni amministrative del capoluogo del 5 giugno, che darà vita ad una lista in appoggio al candidato sindaco Pierluigi Blondi. L'Aquila al centro, qual è il significato di questo logo? Com'è nata l'idea? Innanzitutto è nata dalla volontà di levarci sigle di partito che in qualche modo ci appartenevano per aprirci. Questo è un momento difficile, bisogna fare dei segni di disponibilità, dare dei segni di disponibilità. E poi, in questo momento, veramente quello che ci muove è la volontà di mettere al centro questa città, quello che abbiamo costruito e abbiamo dato per questa città. La lista all'Aquila al centro ha come animatore esterno, oltre a Quagliariello, anche Mimmo Zrur, già assessore regionale e amministratore di lungo corso. I componenti della lista non sono ancora noti, ma le presenze in sala ventilano la conformazione centrista che attinge a nomi di destra e sinistra, come sottolineato anche da Gaetano Quagliariello. Il centro è anche un luogo politico, ma non solo. Non può essere inteso come una collocazione politica che nasce nei palazzi. Il centro è un luogo accogliente se si riempie di entusiasmo e di responsabilità. Noi vorremmo che questa sia la caratteristica della nostra lista. Grazie. 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 Grazie.